Oioverse mi ha dato la possibilità di giocare la beta della versione 7.2 di Onkai Impact 3rd quindi grazie a Oioverse e quello che vedete su schermo è appunto le novità che arriveranno in questa nuova patch del gioco ora vado a riscattare tutte le robe che sono da riscattare e poi diciamo qualcosina appunto sul personaggio nuovo di Garuda che vi farò vedere appunto in anteprima che io non vedo l'ora di provare ok questo è il nuovo outfit si ullala anche l'outfit di Crononavi uuuuh quello che in collaborazione con Promare mamma mia ecco qua ecco qua cominciamo con la signorina Garuda ebbè questo qua fu Ordinary Day nuovo Stigmata ne abbiamo parlato anche di queste gente ecco qua una marea di robe che noi dobbiamo testare per insomma dare un feedback poi ad Oioverse come è giusto che sia perché è bello giocare alle beta di questi giochi ma se troviamo dei bug dobbiamo segnalarli ad Oioverse perché è bello supportare il gioco assolutamente eccola qua la nostra signorina Garuda eccola qui unlock ecco qua ullala ma che meraviglia ma che meraviglia allora te la faccio vedere nella sua interezza aspetta andiamo a pressione su mod wow cioè come fai a dirmi che questa Valkyrie ha un pessimo design io non ne ho idea cioè veramente devi avere dei gusti pessimi se mi permetti vediamolo un pochino più da vicino cioè scusa eh guarda che è una gran figata eh tra l'altro sì ci sono scritte alcune cosine qua è interessante mamma mia veramente ma veramente è una gran figata eh aspetta la facciamo vedere anche così sì allora vediamo un pochino cosa ti dicono le statistiche di questo stigmata per ogni 100 di max HP ti vado ad aumentare il fire damage dell'1% fino al massimo del 70% eh vado ad aumentare i HP massimi del 500 punti quando recuperiamo HP i nemici subiscono il 20% in più di fire damage dal personaggio per 10 secondi va bene e l'ultimo è vado ad aumentare del 30% di total damage gli attacchi che non sono dell'ultimate e non sono in modalità di burst fanno il 50% in più di fire damage quando gli HP sono al di sotto del 75% l'ultimate o gli attacchi in burst mode fanno il 20% di fire damage in più e se ne equipaggiamo con la signorina Garuda abbiamo un 40% in più ehm insomma di aumento al danno e tutto il resto va bene ok vediamo la sua arma allora c'è quella normale ma noi proviamo direttamente quella in versione pre-arm direi che non avrebbe senso appunto mettere l'altra robina già in ehm insomma livello 65 allora va a generare una pocket dimension che dura per 5 secondi facciamo il 30% in più di total damage quando siamo in questa pocket dimension l'effetto dura per 10 secondi dopo che lasciamo ehm questa pocket dimension se tregheriamo ancora una volta il tutto ciò va a resettare la sua durata quando viene equipaggiato da Garuda i QT è ehm cambiando la sua stance perché questa valchiria può fare danni sia con gli insomma con i pugni che anche con con i calci quindi andiamo a triggerare ancora una volta la pocket dimension questa pocket dimension insomma va ad infliggere un effetto di stato ai nemici che si basa sulla sulla stance corrente e va a rimuovere il mark dell'altra stance quando un nemico è sotto questo effetto di stato insomma questo marchio ed è colpito da una combat attack della stance corrispondente andiamo a detonare e facendo un 300% di attacco come fire damage fire damage è aumentato al 30% quando gli HP massimi sono al di sopra di 7000 total damage è aumentato al 20% se recuperiamo 500 HP tutti i nemici ricevono il 24% in più di fire damage dal personaggio che equipaggio a quest'arma per 15 secondi possiamo resettare la durata e quando siamo sul campo e andiamo a perdere 100 HP andiamo a recuperare 15 SP ora wild phoenix case andiamo a vedere cos'è questa robina qua questo è l'evento dedicato a Garuda senti e tutto il resto quindi dovrebbe essere abbastanza carino ok è un viaggetto tra questi personaggi va bene uhlala no no aspetta aspetta questo evento sembra carino sembra abbastanza ci sono i personaggi cibi ok merry stories coming up so playstation e la 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 va bene insomma non ti vogliono svolerare la parte di trama noi giochiamo e basta uhlala marble battle ok la cosina con le biglie ok questo sembra complicato attenzione in base a quante robine va a colpire possiamo fare più danno ah ok oh cavole ah noi possiamo scegliere dove far andare la biglia ok che lancio del cazzo però carino questo giochino delle biglie ah hai il numero di biglie limitato se lo finisci devi schippare un turno ok è possibile farla cadere qui vediamo qua uh dato più roba vediamo il danno uhlala allora dopo che finisce ogni battaglia potremmo utilizzare lo shop per spendere coins commemorativi insomma rendere il personaggio più forte va bene allora alcuni meccanismi hanno degli effetti unici che possono resettare le biglie che vedi qua su schermo allora mentre invece i meccanismi rossi vanno ad aumentare il danno quantomeno il burst damage aspetta gold meccanism ok ah questo qui ti fa danno ad aria ok sette arrival phoenix commemorative coins ok va bene per il momento abbiamo questa guarda quante biglie che ci sono no questa piccola di senti uh shikure kira wow buco fucsi ah vedi ci sono un pochino tutti gli altri personaggi allora ogni personaggio è bravo ad utilizzare le proprie biglie penso che sia alquanto ovvio in questo caso più hp perde la signorina garuda più è in grado di fare danno ai nemici va bene la sua skill le permette di colpire i nemici con più efficienza quando perde hp va bene andiamo di qua ok si è arrabbiato il tizio ti è arrabbiato il tizio proviamo qua non era quello che volevo vabbè infatti non ha fatto tantissimi danni ahia andiamo eh mica aumentate il danno però mi sembra veramente molto carino questo evento è molto ma molto carino oh la la oh la la mamma mia ok sto cercando di capire come funzionano tutti i vari oh 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 mamma mia il danno ok proviamo a fare qualcosa di più interessante sì so che questa cosa darà un botto di pastidio a qualcuno però lei si toglie gli hp per poi recuperarli per fare più danno e infatti ha tirato fuori 2 milioni mamma mia le combo ok se premi la weapon skill cambia stance giusto cioè ti puoi mettere a fare 300 combo solo col personaggio e questo super pugno è fantastica questa cosa allora c'è un nuovo outfit per la signorina Shigurekira eccolo qua molto carino non ricordo dove si prendono questo outfit mi pare che ne abbiamo parlato già in alcuni video fa gente quindi andate a vedere quelli però molto carino questo outfit molto ma molto bellino andiamo qua nel Universal Mirage e c'è la nuova Herschel of Remaster questo personaggio ovviamente funziona con Garuda perché è consigliato utilizzare appunto Team Fire ora vediamo qua che sono utilizzate le persone Garuda Herschel of Truth e la signorina e la signorina crononavi ovviamente penso che sia abbastanza ovvio ci mettiamo la signorina Garuda come leader vediamo che cosa ci da aspetta come leader ci dice che vado a aumentare il fire damage del 18% il 10% il total damage di tutti i miei e andiamo di crononavi l'elf è sempre questo la Divine Cage possiamo mettere questo andiamo di questo urbino qua io solitamente lo faccio con la modalità di buff attivata quindi conta non conta non lo so facciamo senza ti faccio vedere un pochino con più di difficoltà ecco però cavoli che conclusione quella di prima oh la la ha cambiato anche lo stage figata bella questa cosa aspetta che mi serve voglio provare a fare la rotazione giusta buona e non abbiamo abbastanza SP aspetta ok buona andiamo oh mamma mia che numeri che riesce a tirare fuori ok devo capire un pochino la tempistica della della combo attacchi perché quelle volte mi esce altre volte no guarda che ci hanno messo a livello di ok ok c'era questa meccanica del player flower però mi funziona collettamente è sicuramente è sicuramente molto più complicato rispetto a quello di prima nulla di proponibile ok andiamo di lei ok vediamo e questa volta il danno è diminuito ma non è che può essere sempre così facile è normale che adesso ci vuole un pochino più di di attenzione allora dai 5 barre vita è troppo presto guarda tutto è buone tutto è buone ok buona così ok vediamo il danno se aumenta 24 milioni direi che è aumentato sono sicuro che nella lisa ci sarà modo di giocare questo personaggio in in due modi uno d'attacco normale e uno per lo più con la con la burst del personaggio insomma l'ultimate ora lo chiudiamo senza neanche il buff si l'abbiamo chiuso con nemmeno un milione dopo aver fatto un bel po' di roba prima ahia l'ha pure colpito veramente molto bello questo stage carino la boss fight e insomma il personaggio ha delle potenzialità questa garuda è molto forte allora lo vogliamo provare a finale ma fire vulnerable shield si elemental damage elemental bridge si utilizziamo l'elf che ci piace di più con la signorina garuda qua direi di metterci allora questa ti va a dare fire e va a fare ignite ai nemici si non lo so se può essere diciamo che solitamente se fai danno elementare azzurra in pirea è la migliore scelta e dato che dobbiamo anche un pochino abbassare gli hp per triggerare diverse cose direi che va bene anche lei detto questo qua nel support direi di metterci non credo che abbia senso questo qua perché dovresti partire già con due scelte se non ricordo male quindi mettiamoci questo di kalpas che sicuramente può essere utile e qua direi di cominciare con lo suo perché ti ripeto facciamo tanti danni facciamo un bel po' di cose poi dipende molto dallo stile del gioco cioè se tu fai attacchi normali magari non ti serve quello di kemi mentre se fai altre robe appunto dipende pure il combo hits potrebbe essere utile quello di di body insomma di su non lo so cominciamo da questo vediamo un po' che cosa ne viene fuori dai allora vediamo un pochino cominciamo qua allora quindi questo qua è dedicato a fare attacchi normali vermilion fight e attainment vogliamo provare questo questo vado a mettere alla velocità e facciamo bonus fire damage sul sul pg e questo è sempre dedicato all'ultimate proviamo a fare questo ok ok mamma mia e BOOM! ok! wow! se fai la combo corretta puoi fare più combo attacche e weapon skill una volta non sono ancora più di tanto bravo con questa partita da sfruttarla al meglio però appunto puoi concatenare le due cose ecco si che riesci a fare la cosa può fare non basta Sì Insomma non proprio eh Ok non ho fatto il cambio dello stance Quindi l'ultimo attacco era quello Normale Ok Vai così Mamma mia Dovevo schivare una robina Per evitare che mi andava a freggiare Direi che non l'abbiamo utilizzata proprio con la meccanica Mamma mia Ho stirato fuori Wow Dai proviamo contro Kevin Spida finale dell'Elysian Difficoltà finale Vediamo un pochino come Ce la caviamo Ok Due andate Andiamo di ultimate Ullala Lo stiamo disintegrando Il signorino Ai ya Voglio concludere con l'ultimate È possibile Vediamo Beh Mamma mia Ora Una volta Una volta Su schermo Io non vedo l'ora di pullare questa signorina Spero di avere abbastanza cristalli Per poterlo fare Ma Cavoli Promette davvero bene Insomma Vi rimando alla recensione del capitolo 42 Quando arriverà Gente Sorry Sono preso da tante cose in questi giorni Quindi ancora non riesco a Portarla in pretta sul canale Detto questo Dalla signorina Garuda Qui è tutto Gente E alla prossima Dalla signorina Garuda Grazie per la visione!